Oh! Oh! Da dove vengono queste bolle? Oh! 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 Che sta succedendo? Oh no! Come faccio ad uscire da qui? Sono Gianni! Come posso aiutarti? Gianni, sono Bob! Sono rimasto intrappolato in una misteriosa bolla quando l'ho toccata e la città ne è piena! Tutti saranno intrappolati! Non preoccuparti, Bob! I soccorsi stanno arrivando! Ciao Gianni! Tigers, Buzzfly, ho una missione per voi! Urrà! Una missione! Dicci tutto, capo! La città è piena di bolle! Bob e altri cittadini sono rimasti intrappolati lì dentro! Dovete liberarvene, ma non potete toccarle! Questo è molto importante! Non toccatele assolutamente, ok? Nessun problema, Gianni! Certo, ricevuto! Ok, ragazzi, non c'è tempo da perdere! Johnny aveva ragione! Ce ne sono attonnellate! Ma non vedo Bob da nessuna parte! Lea, non farlo! Dobbiamo aiutarli! Ehi, Buzzfly, che ti succede? Johnny, non ci aveva detto di non toccare le bolle? Oh sì, scusa, colpa mia! Dobbiamo trovare un modo di scoppiare le bolle senza toccarle! Ma come? Sta a guardare, micino! E preparati alla resa dei conti! E questa era la tua grande idea! Tu hai un'idea migliore, genio? Vento! Ok, facciamo con molta attenzione, d'accordo? Beh, a proposito... Mi dispiace, amico! Oh cavolo! Devo trovare un modo per attraversare questa follia saponosa! Sono proprio un genio! Queste nuove bolle sperimentali sono un grande successo! E grazie a questo aggo atomico sono l'unica che può farle scoppiare! Ehm... Quanto avete sentito di quello che ho detto? Oh no! Oh no! Forza, Tigers! Puoi farcela! Johnny, mi senti? Abbiamo scoperto che c'è Vicky dietro a quelle bolle e possiede l'unica cosa che le fa scoppiare! Non dire altro, Tigers! È l'ora dei potenziamenti! Abbiamo fatta! È finita per te, Vicky! No! Occhio della tigre! Dai Vicky, non fare così! Abbiamo delle bolle da far scoppiare! Ok! Devo mirare molto bene, sì! Perfetto! Grazie, Tigers! Sei stato grande! Non dirlo nemmeno, Batfly! Penso che abbiamo finito qui! Ho come l'impressione che stiamo dimenticando qualcosa! Sai? Quando verranno? Ho chiamato un bel po' di tempo fa! I gelati sono tutti i miei mo... Non la passerai lì, Vicky! Davvero? È chi mi fermerà? Il gioco è finito, Vicky! Batfly è qui per fermarti! Sei sicuro? Correte, ragazzi! Correte! Ci serve aiuto! Sono Johnny! Come posso aiutarti? Johnny, sono Katie! Ci serve aiuto! Vicky sta creando un caos al ristorante! Batfly la sta aiutando! Aspetta, cosa? Di cosa stai parlando? Ti lo dico io! Batfly è venuta e ha lasciato Bob sul tetto! Questo è un disastro! Non preoccuparti, Katie! Ti manderò un po' di aiuto e capiremo che sta succedendo! Ciao, Johnny! Batfly, che sta succedendo? Katie mi ha appena chiamato dicendo che stai aiutando Vicky nei suoi piani malvagi! Sai che non può essere vero, Johnny! Lasciami arrivare lì e scoprire che succede! Mi fido di te, ma non voglio che tu vada da sola questa volta! Potrebbe essere una specie di trappola! Trecodile verrà con te ad aiutarti! Oh, andiamo! Non preoccuparti, Johnny! Sarò come la sua ombra appiccicosa! No, non di nuovo! Non preoccuparti, Bob! Ti riporterò a terra! Guarda chi c'è! Un animo scema! È finita, Vicky! Non ti lasceremo scappare! Oh, ma tu lo farai! Aspetta e vedrai! Cosa? Sono cloni! Vicky sta creando cloni! Ciao, ciao, animo scemi! Trecodile! Prenditi cura del tuo clone! Va bene, bello! Andiamo a ballare? Oh! Wow! Rilassati, amico! Non male! Per essere un falso! Aia! Katie! Rino Trax! Mi servirebbe un piccolo aiuto! Andiamo! Lo sai che sono il vero tracodile! Dimostralo! Cosa? Ok, ok! Ricordi quando ti ho salvato da quelle sabbie mobili, Rino? Andiamo, forza! Se non fosse per le mie abilità super cool, saresti ancora lì! Sì, ok! È quello vero! Nessun clone sarebbe così presuntuoso! Sembra che tu... Che tu sia in un bel guaio, amico! Andiamo! Dove sono finiti quei due? Da questa parte, animo brutto! Stai cercando di cogliermi di sorpresa, eh? Non c'è bisogno di farlo! Quello ha un bel coraggio! È ora di tornare alla grotta, piccolo pipistrello! Se voglio sconfiggerla, ho bisogno di qualcos'altro! Batfly, hai scoperto cosa stava succedendo? Sì, Johnny! Vicky sta facendo cloni di noi per ingannare tutti! La sta combattendo, ma ho bisogno di un aiuto! Oh! Una spinta in più, eh? Bene, Batfly! Preparati per un potenziamento! Wow, questi turbo sono incredibili! Non è possibile! Quello sciocco pipistrello ci sta venendo incontro di nuovo! Girati e spara il tuo boomerang, mio clone! Abbassiamola definitivamente! Ora tocca a me! Hai fallito, animo perdente! Dovrebbe far male! Mai mettersi contro un pipistrello! Forza, ragazzi! Ora vi porto in prigione! E ora vediamo come sta Trecodile! Ricordati! Clone! Sai, nessuno è più loco del croco! Grazie, ragazzi! Non ce l'avrei fatta senza di voi! Non c'è di che! Spero solo che anche Batfly abbia sconfitto il suo gemello cattivo! Certo! Che pensi che sia io? Fatti mia! Ce l'hai fatta! E guarda chi ha portato con me! Oh, sì! Ecco che succede quando scoppiazzi le nostre belle facce! Che stupidina! Era l'ultima pietra rimasta, Rino Truck! Ah, finalmente! Ora possiamo riposare un po'! Andiamo! Qual è il problema, amico? Bob! Siamo rimasti bloccati nelle sabbie mobili! Ci serve aiuto! È in fretta! Sono Johnny! Come posso aiutarvi? Johnny, abbiamo bisogno di aiuto! Rino Truck e io siamo bloccati sulle sabbie mobili! Non preoccupatevi, ragazzi! Ho la squadra perfetta per questo! Ciao, Johnny! Build user, Tracodile! Bob e Rino Truck, sono nei guai! Dovete andare nel deserto subito! Va bene, Johnny! Siamo in viaggio! Finalmente! Stavo iniziando ad annoiarmi! Guarda, Rino! Quella è la squadra di soccorso! Siamo saldi! Tenete duro, ragazzi! Va bene, Traco! Qualche piano? Lo so! Lo so! Io, te, vado in incognito! L'anima d'aquila che c'è in me farà il resto! Mi tuffo sulle sabbie mobili! Nuoto, le tiro fuori! Sì, nuoto, le tiro fuori! Sì, non c'è niente che il toro non possa fare! Afferra le corna, Bob! Le ho prese! Ci siamo! Hai finito, ragazzone? Sono troppo pesanti! Non riesco a tirarli fuori! Non preoccuparti, amico! So io come fare! Ragazzi, buttate via quelle rocce! Avete troppo peso addosso! Lo farò! Vai avanti, Rino! Già fatto! Ben fatto! È stato davvero fantastico, Traco Dyle! Ottima idea! Forse non sono! Non sono così pazzo dopo tutto, eh! Hai proprio ragione, Traco! Mi dispiace tanto per prima! Non preoccuparti, bel ragazzone! So bene che a volte il coccodrillo più presente è un po' pazzo! Sei proprio pazzo, amico! Ma mi hai dato davvero un'ottima idea! Non so se posso farcela, ragazzi! Forza, Bob! Puoi farcela! Ma non voglio lasciarti qui, Rino! Starò bene! Sono sicuro che mi tireranno fuori in un batter d'occhio! Ti ho preso! Sto bene! Non ho nemmeno un graffio! Ben fatto, Billy! È stato davvero forte! Ora prendiamo Rino! Oh no, Rino! Il Dozer non riuscirà a tirarlo fuori in tempo! Serve aiuto! Ehi, Traco Dyle! Come procede la missione? Non bene, Johnny! Abbiamo Bob, ma Rino Trax sta quasi affondando! Non dire altro, amico mio! È ora del potenziamento! Ah, mi piace questo! Interveniamo subito, ragazzi! Ok, dove posso grapparmi a lui? Oh, jackpot! Cosa? Andiamo! Funziona, ragazzi! Funziona! Ci l'avete fatta, ragazzi! Ci avete salvato la vita! Grazie mille, Anima Team! Siete stati davvero fantastici! È tutto grazie alle mie turvine super pazze! Beh, sapete? Credo che anche Bill Dozer abbia aiutato! Ovviamente come mio incredibile assistente! Divertente, amico! Ora aiutami ad uscire di qui! Andiamo, Bill Dozer! Sto affondando, amico! Beh, perché non esci da solo con le tue turbine super pazze? Alla fine sono solo un misero assistente, ricordi? E va bene, va bene! Hai vinto tu! Ma puoi per favore aiutarmi a uscire di qui? Vuoi qualcosa, Ed? Hai detto che sapevi far volare un palloncino? Ok, io ho mentito, Lia! Non so come far volare questa cosa! Che cosa? Volevo fare il figo! Sono un esibizionista! Stiamo andando contro quella roccia! Oh! Ci è mancato poco! Ma abbiamo un altro problema ora, genio! Siamo bloccati! Oh no! Sono troppo fantastico per essere bloccato su una roccia! Non preoccuparti, Ed! So chi può venire ad aiutarci! Ciao, Lea! Qui Johnny! Pronto ad aiutare! Johnny, abbiamo bisogno di te! Io e Ed stavamo volando su una mongolfiera e siamo rimasti bloccati su una roccia! Volare? Con un vento come questo siete impazziti? Lo so, vero? Non preoccupatevi, amici! Ho trovato l'uomo giusto per questo lavoro! Ciao, Johnny! Will e Fent! Ed e Lea sono bloccati nel deserto! Devi venire subito! Per le zanne e le ruote del cielo! Arrivo! Arrivo subito! Will e Fent! È da questa parte! Bene, bene! È davvero alto lì su! Non possiamo raggiungerlo, Will e Fent! Sono troppo piccolo! Ma posso comunque rimediare? Perfetto! Andiamo, ragazzi! Sei incredibile, Will e Fent! Forza, Ed! Tu vai per primo, mentre io prendo la scala! Davvero! Grazie, Leo! Oh, io finalmente al sicuro! Grazie a Will e Fent! È stato un mio piacere! Ora tocca a te, Lea! Il mio cappello! Il mio cappello! Fatto! Oh! 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 Lea! No! No! Aiutatemi, ragazzi! Ho tanta paura! Oh, no! La mongolfiera si sta dirigendo direttamente verso la sgogliera! Dobbiamo chiamare Johnny e chiedere aiuto! Johnny! C'è un'emergenza! Il vento ha fatto volare via la mongolfiera di nuovo! E Lea è intrappolata lì dentro! Dobbiamo salvarla, ti prego! Ci penso io, ragazzone! Ci sono! Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un po' d'aiuto dal cielo! Ehi, Johnny! Qual è il problema? Lea è in pericolo! Devi andare subito nel deserto! Non dire altro! Se le cose vanno male, chiama la signorina Pepistrello! Vi do il palloncino! Preparatevi e pronti per la resa dei conti! Si sta avvicinando, ragazzi! Farza, Batfly! Puoi farcela! Ehi, signorina! Vuoi un passaggio? Batfly! Non c'è tempo per i saluti! Saltami in grappa e andiamo! Ben fatto! Attenzione! Scusate! Oggi ho esagerato! Grazie, Batfly! Mi hai salvato! Non preoccuparti! Ora ritorniamo a terra! Ben fatto, squadra! Avete salvato la situazione ancora una volta! Animal Team alla riscossa! Lea, stai bene? Sì! Neanche un grappio! Che sollievo! Oh no! Cosa c'è che non va? Mi ci vorranno anni per sistemarlo! Beh, forse dovresti prima imparare a guidarla! Beh, forse dovresti prima imparare a guidarla! Brr! Hehehehe! Eh, hehehehe! Eh, 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 eh! Eh, 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 eh! Eh, 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 eh! Eh, 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 eh! Eh, 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 eh! Grazie.